Questa è un'iniziativa promossa dal CSV, da CSVnet, Centro Nazionale per il Volontariato, Expo. Ed è un'iniziativa che è stata presentata già al Festival di Lucca, direi in maniera anche molto bella come sarà oggi, ma con dati anche sorprendenti. Li ascolterete, li vedrete, perché davvero questo rapporto, questa presenza del volontariato, del tezzosettore, comunque del volontariato in Expo, ha dei tratti davvero che lasciano un po' stupiti in bello. Spesso noi facciamo fatica a raccontare il buono e il bello in questo Paese. Questo è un esempio di come attorno a un evento mondiale, la Carta di Milano, tutto quello che accadrà attorno all'Expo, si sono mosse competenze, abilità, passioni civili che, rispetto appunto, dicevo, alla narrazione del Paese, che a volte è sempre un po' triste, dimostra che il Paese c'è. E in questo caso, qui ci sono davvero tanti giovani, se ricordo bene, parliamo di 16.000, poi i numeri ci saranno, tanti giovani che si sono fatti presenti, in maniera gratuita, con competenza, abilità, tanto desiderio di esserci in questo evento. E per noi, per noi tutti, un po' per il Centro Nazionale, che non conosceva questi dati, per noi, ci siamo detti, è una bella notizia questa qui, è una notizia bella e importante. E anche che smonta alcune tesi, secondo le quali la presenza dei volontari in Expo ha, in qualche modo, passatemi la parola, rubato lavoro a chi invece doveva essere assunto. In realtà, i dati che, almeno io ho ascoltato a Luca, dico esattamente il contrario, che è sulla questa domanda di giovani che militeranno, tra virgolette, all'Expo, soltanto una piccola parte, ma piccola parte, sono ragazzi non in cerca di lavoro, tutti gli altri sono ragazzi che già lavorano e che quindi vivono questa esperienza nella gratuità, nel desiderio di essere presenti in un evento, anche per imparare, per capire, per capire meglio il mondo in cui vivono. E quindi sono grato a questa, io sono, ho solo fatto, noi abbiamo fatto un po' da tramite, niente di più, e sono grato per questa occasione e questa possibilità. Non è il giorno giusto, dicevamo per scherzo, perché qui abbiamo, dice Silvia e altri colleghi parlamentari, perché dalle tre in poi si parlerà di fiducia, e però noi ci siamo lo stesso, e credo che comunque questa rimarrà una buona notizia rispetto a quelle che sentirete nel pomeriggio, tutto un po' così, tutto un po' complicato. Questa è una buona notizia e speriamo davvero che i giornali comunque la riprendano. Detto questo, presento gli amici che sono qui con me, Ivan Nissoli, presidente di CSV Milano, Fosca Nomis Expo, che siamo conosciuti a Lucca, Roberto Museo CSV Net, Claudia Firenze di Adis, grazie Claudia, poi ci sono gli altri, c'è Luciano Gualzetti di Caritas Ambrosiana, Dimitri Zanusso Dimitri e Tommaso Biati, a Gesci, dove sono? Esatto, a Gesci, FSI e poi il Touring Club Italiano. Io direi di iniziare nella scaletta che ci siamo dati e io mi taccio a voi la presentazione. Ringrazio per l'occasione, anche a poche ore ormai dall'inizio ufficiale di Expo, di poter avere questa occasione per presentare un po' il ruolo che avrà il mondo del volontariato all'interno dell'esposizione universale. Noi abbiamo voluto appunto creare questa occasione perché ci sembrava importante, da un lato, sfatare un po' il mito che in queste settimane, in questi mesi ha attraversato e accompagnato un po' tutta la riflessione sulla presenza del volontariato dentro Expo, che ha così ridotto la presenza del volontariato solamente al progetto Volontari per Expo, che è una presenza importante dentro appunto l'evento. Però ci sembrava importante anche raccontare che il volontariato in Expo è un volontariato che sarà ricchissimo perché ci saranno diverse migliaia di persone che offriranno gratuitamente appunto la loro presenza in tante realtà che saranno dentro Expo. Questo è l'Expo che si caratterizza appunto per l'Expo della società civile e dentro la società civile il mondo del volontariato è un mondo che ha voluto essere presente con tante forme e tante modalità diverse. Un volontariato che è stato protagonista prima di Expo e quindi tutto il percorso di preparazione a partire appunto dal momento in cui Expo è stato assegnato a Milano, la società civile milanese e non solo quella, lombarda e quella nazionale, ha voluto iniziare un percorso nelle varie forme che ha accompagnato dentro la società civile la presenza significativa del volontariato. Sarà una presenza significativa durante il semestre, dentro il sito e fuori il sito e vorrà giocare il proprio protagonismo anche dopo il semestre, perché appunto già ieri quando è stata presentata la carta di Milano si ribadiva che poi il ritorno di Expo sarà il dopo e quindi noi vorremmo che il mondo del volontariato, il mondo della società civile milanese ma non solo quella possa essere protagonista anche dopo nella continuazione delle riflessioni dei contenuti dei temi che appunto Expo ha generato. L'esperienza in particolare poi per quanto riguarda il sistema dei centri servizi dell'incontro con tanti giovani in particolare ma non solo giovani che hanno voluto appunto candidarsi a fare questa esperienza è stata per noi un'occasione anche che ha messo e credo mette in discussione il mondo stesso del volontariato oggi, perché come qualcuno dice l'esperienza di Expo è un acceleratore sociale, è stata un'esperienza che ha accelerato alcuni fenomeni che già erano in corso e in atto nella nostra società. Uno di questi è sicuramente l'esperienza della modalità con cui oggi soprattutto i giovani vogliono partecipare e contribuire alla società. L'esperienza di Expo ci dice in fondo questa cosa, di una disponibilità da parte appunto del mondo giovanile in particolare a una presenza, all'esserci, in forme nuove che forse mettono appunto anche in discussione o chiedono al mondo tradizionale del volontariato di riflettere nelle loro capacità di entrare in relazione col mondo giovanile, perché accanto appunto alle esperienze tradizionali, alle proposte tradizionali, queste persone chiedono modalità diverse di esserci. E quindi credo che questa forse è una delle eredità, in termini proprio anche interrogativi, che pone al mondo del volontariato l'esperienza di Expo e la presenza appunto dei volontari dentro il sito espositivo. Noi abbiamo visto, abbiamo fatto una stima che saranno oltre 20.000 i volontari che nell'arco del semestre parteciperanno a tutte le iniziative che all'interno del sito espositivo ma anche fuori il sito espositivo saranno presenti. Ci saranno appunto accanto agli oltre 7.000 volontari dentro il sito che hanno partecipato al progetto volontari per Expo, ci saranno i volontari presso il padiglione dell'Unione Europea, ci saranno volontari presso il padiglione o comunque l'edicola della Caritas, ci saranno volontari presso il padiglione di Save the Children, ci saranno volontari dentro anche il padiglione che ha organizzato Casa Don Bosco e poi i diversi paesi, molti dei padiglioni paesi avranno volontari che vengono dall'estero. Accanto a questo poi ci sono altre realtà che avranno iniziative all'interno del sito espositivo ma anche fuori, penso appunto il Touring Club, penso il Pime, penso l'Avi stessa, penso Cascina Triulza come luogo appunto anche della società civile che avrà una presenza significativa di volontariato, come anche lo stesso Comune di Milano lancerà nelle prossime giorni, nelle prossime settimane un progetto proprio di volontari rispetto all'evento di Expo. Per dire come appunto il mondo del volontariato, la presenza del volontariato è una presenza diversificata, è una presenza che poi andrà ad avere alcuni ruoli e funzioni, ci sarà un volontariato legato al tema dell'accoglienza e quindi offrire la possibilità appunto dentro e fuori sito di incontrare le persone, un volontariato che è legato al tema dell'accessibilità, l'accessibilità della città, dei suoi intorni, delle bellezze e dei patrimoni che la città di Milano metterà a disposizione ma anche l'accessibilità appunto al sito. C'è anche un volontariato che è legato al tema dei contenuti, l'approfondimento dei contenuti perché appunto non dimentichiamo che poi Expo è un evento di carattere educativo, cioè ha una funzione di carattere educativo, quindi tutta la riflessione sul tema ha visto la partecipazione e l'elaborazione appunto anche di contenuti. E infine crediamo sia importante anche una cura rispetto alla capitalizzazione poi delle relazioni. Expo non è altro che un incontro, un grande luogo dove la gente si incontrerà. Allora noi vogliamo e ci piacerebbe che appunto il volontariato sia, come ricordava quando ha incontrato i volontari, il Presidente Emerito Napolitano, sia il volto sorridente appunto dell'Italia, sia il volto sorridente delle persone che arriveranno e ci auguriamo appunto nei prossimi giorni e i primi volti che incontreranno saranno quelli volontari, perché crediamo che poi il volontariato dentro Expo diventa indispensabile, non tanto perché è necessario far funzionare la macchina, andrebbe avanti lo stesso, ma indispensabile perché il volontariato è quello che poi caratterizza anche uno stile di vita. Allora avere persone che possano appunto anche semplicemente con un sorriso far vedere le cose in modo diverso e crediamo che sia importante. E questa è un po' la sfida che vorremmo raccontare un po' oggi, è la sfida che appunto il sistema dei centri di servizio ha voluto raccogliere insieme a tanti altri, è la sfida che rilanciamo al mondo del volontariato, perché appunto il mondo del volontariato possa partire da questa esperienza anche interrogarsi su come continuare appunto a saper incontrare oggi i cittadini e le persone per poter poi portare il loro contributo. Grazie Ivan, parlavi di, io sempre quando parlavi dell'Italia sorridente, io uso sempre questa metafora cara Aldo Bonomi, che in un convegno al Centro Nazionale per il volontariato a Lucca a settembre ci disse voi siete dalla parte delle comunità operose e cercate di contenere le comunità rabbiose, disse. Credo che questa idea del sorridere impegnato al servizio, al bene comune, credo che sia un bel racconto e credo che questo paese ne abbia tanto bisogno. Fosca Nomis, Expo. Grazie, grazie a tutti di essere presenti e soprattutto grazie a chi ha voluto, all'onorevole Patriarca e al CSV a livello sia locale che nazionale, di aver voluto questa conferenza per dare l'opportunità di raccontare un altro pezzo di Expo, quella che magari si vede un po' meno, che è un po' meno sui giornali, ma che c'è. L'Expo che, insomma, per semplificare chiamiamo l'Expo sociale, di cui un pezzo fondamentale sicuramente è quello che veniva raccontato prima da Ivan sui volontari, ma che vorrei proprio in questi pochi minuti contestualizzare. Credo che questa Expo sia sociale dal tema. Il tema di Expo Nutrire il pianeta, energia per la vita è un tema che pone delle grandissime sfide sul piano sociale, che non siamo ora ad approfondire, le intuiamo tutte, ma credo che sia l'elemento forte che ha fatto avvicinare anche a questa esposizione universale una serie di soggetti che magari in un altro contesto, in un altro modo, non avrebbero, come dire, voluto partecipare, essere presenti, così ingaggiati in questa esposizione universale. Il tema ha fatto sì che questa Expo non potesse essere pensata, costruita, realizzata, con il contributo delle organizzazioni della società civile, che hanno fatto, uso una parola oggi, magari che verrà utilizzata in un altro modo, ma hanno fatto un atto di fiducia, diciamo così, nei confronti dell'Expo, e hanno scelto insieme di costruire un percorso che nasce più di quattro anni fa, per alcuni, con i quali abbiamo iniziato a parlare, a ragionare, a capire insieme come, in questa esposizione universale, la società civile potesse effettivamente essere protagonista, in tutte le sue declinazioni. La presenza, la partecipazione, il ruolo di coinvolgimento dei volontari, che è appunto un aspetto fondamentale. Abbiamo quindi modalità diverse di presenza e di partecipazione nella società civile, che rispondono alle esigenze e alla voglia di essere dentro di realtà distinte. Dai partecipanti che costruiranno un palinsesto di eventi, quindi saranno presenti portando il tema nei contenuti, quelli che avranno uno spazio espositivo per i sei mesi, come Caritas, ad esempio, che avrà una sua area dove i visitatori potranno approfondire in un altro modo il tema dell'Expo, a la Cascina Triulsa, che è uno spazio ampio, il terzo padiglione più grande dell'Expo, all'interno del quale a loro volta ci potranno essere una serie di organizzazioni che scelgono di essere presenti per una settimana, un evento. Insomma, l'idea è stata quella di abilitare in tutti i modi possibili la società civile per essere dentro a questa esposizione universale. E devo dire che appunto ci siamo riusciti insieme, questo lo sottolineo, nel senso che noi abbiamo fatto un lavoro come società Expo, ma che se non ci fosse stata questa forte collaborazione e questa voglia di pensare insieme a come valorizzare la presenza della società civile nell'Expo, non saremmo arrivati dove siamo oggi, a due giorni dall'apertura. Un'altra fetta, un altro pezzo che non veniva così menzionato prima da Ivan, ma che ci tengo, perché li vede comunque coinvolti, è il bando straordinario del Servizio Civile Nazionale. Anche questa è un'altra iniziativa che è stata fatta, che è stata presa, importante credo, anche come segnale del ruolo che il governo e i giovani vogliono avere all'interno di questa esposizione universale. Quindi ci saranno circa 110 ragazze e ragazzi che saranno presenti durante l'Expo e credo che avranno la possibilità di vivere veramente un'esperienza unica. L'Expo è un fazzoletto di terra di un chilometro e mezzo quadrato dove si incontrerà il mondo. Si incontreranno 150 paesi, si incontreranno grandi e piccole aziende, si incontreranno grandi e piccole organizzazioni della società civile. Veramente è un'occasione, credo, per tanti giovani che forse potrebbero anche non avere la possibilità di viaggiare e di avere un'apertura sul mondo in quel contesto lì. E questo credo che sia un'opportunità unica per una generazione di questo Paese. Quindi per i volontari, per i volontari del servizio civile, anche per i ragazzi che verranno a visitare l'Expo e quindi anche l'enfasi che noi mettiamo sulla partecipazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi a questo Expo è data da questo. È veramente un'occasione che magari tanti di noi in gioventù hanno vissuto di avere la possibilità di aprire gli occhi su altri mondi, su altre possibilità e quindi pensare anche la propria vita in modo diverso. Quindi questa credo che sia un'opportunità che non è monetizzabile in qualche modo dell'Expo ma che credo dobbiamo cercare tutti di sfruttare al massimo. Un altro, tocco altri due aspetti brevemente, uno è il tema dell'accoglienza. Anche su questo abbiamo fatto un lavoro per fare in modo che l'Expo fosse accogliente per tutti. Quindi il tema ad esempio dell'accessibilità per le persone con disabilità è stata una delle cifre del nostro lavoro di consentire a tutte le persone che vogliono visitare l'Expo di poterlo fare in modo confortevole, autonomo, agevole che è una cosa che non è scontata, come tutti sappiamo perché il tema dell'accessibilità nel nostro paese e in tanti altri contesti è oggettivamente un punto critico. Quindi il fatto di cercare di costruire un luogo che sia un po' un luogo di un acceleratore, come si diceva, ma anche un luogo di eccellenza, insomma ci proviamo nei limiti del possibile, un luogo di eccellenza, pensiamo che debba essere un segnale che abbiamo la responsabilità in qualche modo di dare tutti insieme, noi come organizzatori di Expo e poi tutti quelli che saranno dentro all'Expo, perché l'Expo ha questa caratteristica che è un insieme di soggetti, noi siamo una piattaforma, organizzatori, ma poi dentro ci sono 140 paesi, vi dicevo 23 cosiddetti partecipanti non ufficiali, quindi fra società civile e aziende che hanno padiglioni che sono responsabili del proprio spazio, del proprio modello di partecipazione interna all'Expo, quindi ovviamente anche il modo in cui loro saranno presenti sarà un segnale. Il fatto che, come si diceva prima, molti di questi abbiano anche scelto di attivare dei percorsi per coinvolgere il volontariato, credo che sia un segnale di come dei messaggi che noi abbiamo mandato anche come Expo, siano stati raccolti, fatti propri e valorizzati. Ultimo aspetto è questo che è stato presentato ieri, credo che sia importante perché ci consenta di pensare che l'Expo è stato un percorso importante fino ad oggi, saranno sei mesi che sono lunghi, sono un periodo di tempo veramente lungo di esposizione universale e poi ci sarà un dopo. In questi sei mesi e nel dopo sicuramente il dibattito e il lavoro sul tema dell'Expo sono fondamentali. La Carta di Milano, anche questo, è un modello nuovo di partecipazione, di coinvolgimento sui tema e sui contenuti. Generalmente le dichiarazioni finali delle esposizioni universali, per darvi un'idea, è un documento che, come dire, pochi si chiudono in una stanza a scrivere e viene consegnato come una cosa da fare, tra virgolette, perché è previsto dalle normative del Buro Internazionale di Disesposizione. La scelta di questo governo, di questa Expo e di tutti i soggetti che hanno contribuito, che sono veramente tanti, alla realizzazione di questa carta è stata quella di fare un percorso che coinvolgesse tante realtà che hanno da dire sul tema dell'Expo, che coinvolga anche le singole persone individualmente nel corso dei sei mesi, perché questa carta potrà essere sottoscritta dalle persone, prendendo impegni individuali e invitando poi le istituzioni a prenderne a loro volta, quindi anche in una logica nuova di assunzione di responsabilità, oltre che di richiesta di interventi da parte delle istituzioni, e che verrà consegnata il 16 di ottobre al Segretario Generale delle Nazioni Unite al fine di, come dire, costruire un percorso che vada anche dopo l'Expo. Quindi anche, diciamo, su un percorso che era un percorso, tra virgolette, chiuso, è diventato un percorso aperto di partecipazione, di coinvolgimento e di riflessione sul tema. Quindi l'auspicio è che questa esposizione universale possa appunto essere un acceleratore di processi e percorsi sociali, di coinvolgimento, di protagonismo, di riflessione sul tema, che possa essere davvero un'occasione per questo Paese, per uscirne un po' diverso da come era prima. Grazie. Grazie Fosca Nomis. Fosca ci ha offerto il quadro anche culturale dentro il quale ci muoviamo, ed è importantissimo, questo a dire ancora una volta che il volontariato non è soltanto, come dire, gratuità, che è preziosissimo come valore, che non è soltanto partecipazione, ma è anche appunto una proposta di una cultura, di cittadinanza, un modo diverso di vederla vita, un modo diverso di vederla comunità. E credo che quei giovani che saranno impegnati in Expo renderanno testimonianza di come si può vivere questo tempo, sotto il segno della solidarietà, della convivialità, della vicinanza e della prossimità. Quindi credo che questo sia un passaggio felice anche per il volontariato, Fosca, perché noi abbiamo vissuto questa esperienza al Festival del Volontariato, con voi presenti e Expo ci ha dato il suo logo, quindi ve ne siamo ancora grati. Non vorrei divagare, però alla Camera abbiamo approvato la legge delega sul terzo settore. Il volontariato il 90 maggio si convocherà per ribadire un po' il suo quadro culturale, la sua proposta. Quindi anche per il volontariato, grazie anche a Expo, credo si apra una stagione anche molto bella e molto positiva. Roberto Museo. Buongiorno a tutti, grazie a Edoardo Partiarca per questa giornata, ma soprattutto anche agli amici di CSB di Milano, che da tanti anni stanno lavorando per questo raggiungimento di questo obiettivo. Noi abbiamo raccolto la sfida quasi un anno fa, il 16 maggio, eravamo a Milano con l'allora appunto commissario Sala, e dicemmo la rete decenni di servizio per il volontariato si mette a servizio per il programma volontari per Expo. Possiamo dire che questa sfida, la prima parte l'abbiamo raggiunta, l'abbiamo portata a termine. Oggi inizia la fase operativa, sperimentale, e per la prima volta appunto su questa esposizione universale, che vede per me due parole d'ordine che ci hanno condotto in questi mesi. partecipazione da parte della rete di tutti i scenari di servizio per il volontariato, dalla Val d'Aosta fino giù in Sicilia, e soprattutto responsabilità di tutto quello che è il nostro know-how sull'orientamento al volontariato. Questo significa per noi una sfida che ci ha portato ad incrociare i nuovi volontariati. Prima Ivan diceva che è una sfida anche per il volontariato organizzato di oggi, il fatto che tanti giovani si siano proposti per questa nostra iniziativa insieme ad Expo, e possiamo dire che questa è anche una sfida per i scenari di servizio per il volontariato, per quello che ci aspetta nel futuro, nel nostro Paese, del ruolo che dobbiamo continuare ad avere come infrastrutturazione sociale di questo Paese. I scenari di servizio e volontariato sono costituiti da oltre 9.000 organizzazioni di volontariato, i 74 scenari di servizio, quindi significa un volontariato per il volontariato. Alcuni numeri che prima citava anche Edo Patriarcha, noi abbiamo incontrato oltre 16.000 candidati in questi mesi, oggi siamo a oltre 9.000 colloquiati, di cui la maggior parte, appunto, anche oltre il 70% al di fuori della regione Lombardia. Uno delle sfide era cercare di aprire la possibilità a questa esperienza, a tutti i giovani, non solo italiani, ma anche al di fuori dell'Italia. Infatti noi abbiamo anche qui alcuni ragazzi partecipanti da altri Paesi, appunto, 31 lingue si parlano dai volontari da parte di Expo. Significa che anche questo progetto volontariato di Expo, che annola così, è un mondo che si incontra anche dei diversi volontariati degli altri Paesi. Un altro elemento importante, torniamoci, perché è stato uno di quelle cose per cui abbiamo lavorato per alzare il livello del sorriso e abbattere la rancorosità, è che questi ragazzi, l'età media di 24 anni, hanno scelto spontaneamente, liberamente, partecipare a questa esperienza. E quindi noi su questo vogliamo rispondere, che per noi è fare volontariato, è mettere in gioco la propria capacità, il proprio sorriso, le proprie mani, i propri occhi, cioè l'essere, appunto, persona al servizio delle altre persone. Non faranno né hostess né accompagnatori turistici Expo ai suoi lavoratori per questo. Saranno persone che accompagneranno nei siti espositivi, indicheranno nei totem elettronici quali sono gli eventi che ci sono, saranno, voglio dire, un compagno dei visitatori, quello che è il volontariato. Il volontariato si fa compagno anche nelle piccole esigenze, come nel caso di un visitatore che si troverà sul sito espositivo. Altro elemento importante, il 38% dei candidati non ha nessuna esperienza di volontariato. E allora questa è una grande occasione per fare un'esperienza, io dico mondiale, un po' egoisticamente, magari se quando avevo 24 anni ci fosse stato un Expo a cui avrei potuto partecipare rispetto alle piccole esperienze che ho fatto nella mia città. Quindi una grande occasione, e soprattutto sul fatto che all'interno di questo percorso noi crediamo che la sfida non finirà ad ottobre con la chiusura di Expo, ma vogliamo capitalizzare tutto questo energia positiva, e quindi abbiamo messo appunto in piedi una piattaforma sociale dove oltre già 4.000 di questi volontari selezionati si stanno incontrando, si stanno scambiando esperienze, si stanno raccontando le proprie storie prima di incontrarsi sul sito. Quindi significa anche come una tecnologia permette di preparare un'accoglienza da parte di questi volontari sul sito espositivo. Un'ultima considerazione che mi aveva colpito quando abbiamo intervistato alcuni dei ragazzi volontari perché spesso qualcuno ci diceva ma che senso ha il volontariato in Expo? Perché fai volontario in Expo? E io mi ha molto colpito e concludo con alcune parole di una ragazza cinese che innanzitutto ricordandoci che a Shanghai ci sono stati circa 80.000 volontari nella precedente sito espositivo qui ne abbiamo 20.000 quindi non è non male quindi voglio dire una grande cioè un grande risultato come Italia quindi in proporzione sentiamoci veramente ecco bravi che ogni attività di volontariato è un'avventura ogni attività di volontariato comunque mi permette di crescere personalmente, culturalmente, professionalmente avrò una grande occasione educativa diceva Isa, grande occasione educativa e soprattutto mi sento insieme agli altri volontari di essere lo spirito di Expo Expo non è solo padiglione, materialità ma è questo spirito e l'ultima è mi sento orgogliosa di fare la volontaria in Expo e io con emozione dico ci siamo sentiti orgogliosi come rete dei centri di servizio di mettersi al servizio di questo evento mondiale grazie si vi dicevo all'inizio che questi dati quando li ho ascoltati per la prima volta ma se poi avessimo avuto più tempo Roberto ci sarebbe andato nel dettaglio mi avevano sorpreso anche me cioè nel senso di 16.000 candidati 31 lingue età media 24 anni istruzione medio alta il 38% dicevi Roberto che non aveva fatto ancora volontariato quindi una grande porta di accesso al volontariato soprattutto da parte dei giovani sappiamo il problema giovanile che riguarda anche il volontariato in italiano che via via sta invecchiando anche lui quindi insomma notizie buone notizie ecco credo che Roberto potrà offrirvi i dati più dettagliati di questo popolo di volontari del Expo per lo più giovani poi 31 lingue ci dice poi che questo giovani italiani ecco quindi sapete c'è anche questa metafora strana che gli italiani i giovani italiani parlano solo in italiano qui questi i ragazzi candidati italiani a Expo mediamente se ho capito bene propongono 31 lingue quindi mi sembra che questo è un racconto di un mondo giovanile non tanto provinciale come talvolta ci piace dire e Expo ci dice un'altra storia allora io direi vi chiederei di cambiare di scendere dal tavolo e chiamerei l'ultima tornata chiamerei gli amici chiamerei Lorenzo Luciano Gualzetti così Dimitri e Tommaso ci stiamo tutti ecco qui diciamo un po' la seconda fase di questa nostra conferenza stampa qui avete le associazioni le federazioni le associazioni alcune delle tante presenti a Expo che racconteranno anche come saranno presenti a Expo allora Claudia Avis sì innanzitutto devo dire che in questo orgoglio e in questo entusiasmo cui si faceva riferimento prima io mi ci sento appieno perché aver la possibilità come volontaria di Avis di far parte di una cosa immensa come un'esposizione universale è qualcosa che capita veramente una volta sola nella vita e quindi di questo ringrazio Expo per aver avuto la bellissima idea di aprire al mondo delle volontariate del terzo settore è la prima volta che accade è una specificità italiana e credo che di questo dobbiamo essere orgogliosi quindi orgogliosi e entusiasti non un entusiasmo ingenuo ma un entusiasmo consapevole cosa ci fa Avis in Expo beh noi abbiamo cercato di portare il nostro contributo con un progetto che vi racconto brevemente che vede anche noi una rete all'interno della nostra associazione e che si chiama Avis per Expo nutriamo la vita quindi ci siamo riagganciati al claim di Expo perché un donatore di sangue fondamentalmente è un donatore di vita e questo è anche abbastanza semplice da come dire da dire e da raccontare il progetto è vario avremo degli eventi all'interno di Expo e degli eventi anche fuori Expo ma abbiamo cercato di mettere in atto anche un progetto scientifico perché Avis vuol dire stili di vita sani perché i donatori fondamentalmente hanno il grande privilegio di essere in buona salute e di mettere a disposizione la buona salute per gli altri e quindi abbiamo cercato di indagare se come dire rispetto a stili di vita e quindi anche stili di alimentazione corretti ci potesse essere una correlazione tra essere donatori o no quindi avremo anche poi tutta una serie di eventi divulgativi anche per i più piccoli perché Expo è come dire parla a tutti a tutto il mondo e a tutte le fasce d'età quindi avremo appunto un questionario oggi farò anche un po' di pubblicità a progresso quindi segnatevi il sito www.avisperexpo.it dove si con poche parole si indagherà quali sono le abitudini alimentari della popolazione italiana e della popolazione che poi sarà presente in Expo dei donatori e dei non donatori quindi sentitevi tutti assolutamente coinvolti in questo progetto e è un questionario abbastanza semplice che indaga gli stili di vita quindi cosa uno sa cosa uno fa e poi anche cosa ha fatto il giorno precedente quindi insomma entriamo proprio abbastanza anche nello specifico poi ci sono ci sono gli eventi cominciamo il 13 maggio con un evento al parco tecnologico padano di Lodi che è un nostro partner dedicato ai più piccini ci sarà il modo di raccontare la come dire il volontariato col sorriso cui si faceva riferimento prima e siamo stati anche qui siamo abbastanza in linea perché noi che si può essere utili si può fare del bene con il sorriso sulle labbra in maniera molto semplice molto quotidiana lo diciamo lo diciamo da sempre e quindi sarà questo primo evento questo laboratorio dedicato ai più piccini con un cooking show dedicato anche ai bambini ed eccolo il sorriso ecco il 14 di giugno saremo all'interno di Cascina Triulza avremo due fondamentali eventi all'interno di Cascina Triulza il 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue la giornata in cui si ringraziano i donatori per il loro gesto quotidiano e anonimo che salva la vita di tante persone e neanche a farla sposta lo slogan della giornata sarà donne e sorridi quindi give blood and smile quindi insomma ci siamo come dire siamo assolutamente allineati abbiamo stimato la presenza di circa 6.000 volontari Avis solo per la giornata del 14 giugno e comunque la partecipazione dei volontari all'Expo sarà assolutamente ampia e come dire e partecipe da ogni punto di vista e quindi sicuramente ci troveremo a essere presenti con tutta la nostra forza della insomma di associativa che vanta in Italia circa 1.300.000 soci e 3.400 sedi quindi insomma siamo un'associazione abbastanza grandetta altro evento di cui sono super orgogliosa è il forum internazionale dei giovani donatori di sangue Avis fa parte di una rete internazionale che raccoglie circa 80 paesi nel mondo quelli che hanno la donazione gratuita e volontaria perché non da per tutto è così e abbiamo pensato che la cornice di Expo fosse la cornice migliore per chiamare a raccolta i giovani donatori di sangue gli under 30 si ritroveranno anche lì ognuno con i propri usi i propri costumi le proprie lingue le proprie tradizioni ma come dire in una fratellanza di sangue che anche qui è assolutamente come dire nei fatti perché si vede quando si riesce a fare questi eventi io ho avuto la fortuna di partecipare a molti quando ero under 30 qualche annetto fa che le cose diverse ci sono però sono molte di più le cose che sono in comune quindi il 29 agosto saremo tutti a Milano da tutte le parti del mondo appunto con il sorriso sulle labbra poi il 20 di settembre parteciperemo a Milano all'Innovation Running quindi anche qui stili di vita positivi sport alimentazione tutto molto collegato e infine il 24 ottobre ci sarà l'evento di chiusura in cui racconteremo anche i risultati del questionario quindi sicuramente è fondamentale che ci aiutate voi per primi anche ad allargare la conoscenza del nostro questionario perché comunque è un progetto che è scritto da tutti alla portata di tutti è un progetto a rete e quindi per portarlo avanti abbiamo sicuramente bisogno di voi ho finito vi ringrazio e come dire con il sorriso sempre grazie per averci dato questa opportunità grazie Claudia Luciano a te Carita Sanbrosiana che credo abbia avuto e ha tuttora un grande ruolo all'interno discorso ho scoperto adesso di essere non so quanti anni socio di Avis perché quando ho compiuto 18 anni ho iniziato a donare quindi è una delle associazioni questo per dire che i volontari poi fanno 3.000 cose quindi adesso chiederò allora come Carita Sanbrosiana abbiamo ritenuto di partecipare all'evento di Espo che si svolge a Milano con queste modalità abbiamo contattato Caritas Internazionalis e Caritas Italiana e abbiamo convenuto che era il caso di partecipare perché il tema rimandava a una questione fondamentale la faccio breve cibo ce n'è per tutti produciamo molto più cibo di quello che sarebbe necessario per sfamare tutta la popolazione mondiale ma ancora oggi 800 milioni di persone sono in stato di malnutrizione o di nutrizione è la cosa ancora più aggravata perché un terzo di quello che produciamo viene sprecato un miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno di cibo viene sprecato quindi noi volevamo entrare in Espo e segnalare questa situazione ma non solo con i numeri ma portando le esperienze di tutte le Caritas del mondo che sono vicine le Caritas i missionari le parrocchie i volontari i cooperanti che in tutto il mondo sono vicino a queste persone e fanno quotidianamente dei progetti per risolvere per affrontare e per risolvere questo problema e non potevamo in un'esposizione universale come quella di Milano su nutrire il pianeta energia per la vita non segnalare questa situazione ma non solo dal punto di vista dello scandalo delle negatività ma delle positività cioè di tutto quello che si può fare per cambiare queste cose ci sono delle linee molto semplici che tra l'altro coincidono quasi con quelle della FAO che sono la promozione dell'agricoltura familiare la promozione della donna nell'agricoltura non perché deve lavorare solo la donna ma perché oggi la donna è il pilastro dell'agricoltura soprattutto in Africa e in Asia ma è discriminata non entra nell'asse ereditario eccetera eccetera lo stop all'ungrembling cioè l'accapparamento delle terre che è quello che poi provoca le migrazioni forzate che poi ci ritroviamo nei barconi qua la moratoria dell'uso dei cibi come agrocarburanti che è uno scandalo che si utilizzino mai, soia eccetera e arrivare a essere convinti che la fame non è solo una questione di beneficenza dove basta il buon cuore l'assistenza ma è una questione di riconoscimento del diritto all'alimentazione di tutti gli esseri umani con un diritto fondamentale quando abbiamo ragionato insieme a Fosca nel 2011 per iniziare a entrare in Expo subito con Caritas Internazionalis ci siamo convinti che bisognava fare un'azione forte di preparazione per arrivare a Expo preparati abbiamo lanciato la campagna una sola famiglia umana cibo per tutti la prima campagna che il network delle Caritas internazionali quindi le 164 Caritas di tutto il mondo hanno condiviso contro la fame era la prima ed è stata scelta proprio in vista dell'esposizione universale questo ha comportato che in ogni continente e in ogni nazione le Caritas nazionali hanno fatto un'opera di sensibilizzazione e la richiesta ai propri governi del riconoscimento del diritto all'alimentazione con la richiesta esplicita di legiferare sul diritto all'alimentazione che vuol dire in Africa le strutture le sementi la terra eccetera in Italia una seria lotta alla povertà quindi tutte le Caritas hanno fatto un'azione di sensibilizzazione e di richieste sul diritto al cibo che approderà in Expo il 19 maggio dove tutti i direttori di tutte le Caritas del mondo arriveranno e racconteranno questo percorso questo per dire che già da due anni noi ci siamo mobilitati con tantissimi volontari pensate che solo in diocesi di Milano è vero che è grande mezza Lombardia eccetera però abbiamo fatto circa 300 incontri di sensibilizzazione su questa campagna e sui temi di Expo questo ha prodotto che quando a gennaio abbiamo lanciato una call per raccogliere volontari per essere presenti in Expo perché oltre a questo percorso prima in Expo poi ci sarà un'edicola non osiamo chiamarla padiglione perché uno si spaventa però è un'installazione permanente di sei mesi dove noi racconteremo ai visitatori distratto cinese quello che capisce quello che non vuole neanche che cosa pensiamo su questa situazione e come la si può cambiare abbiamo fatto una call hanno risposto in 600 persone in 20 giorni quindi una risposta straordinaria di queste abbiamo selezionato ci sono i numeri ve li lascio abbiamo selezionato circa la metà perché dovevano essere chiaramente tutti con i requisiti delle lingue la capacità di raccontare eccetera gli altri li abbiamo chiaramente proposto altri tipi di servizio perché non è tenete conto che accanto a questa presenza dentro stiamo aprendo il refettorio ambrosiano che è questo segno di mensa per i poveri condiviso con il chef Bottura e tanti altri artisti che volevano fare qualcosa e noi abbiamo proposto appunto e anche lì in un quartiere periferico di Milano 80 volontari solo per in quel territorio quindi Expo è riuscito a mobilitare tutta una serie di energie e di risposte di volontari che hanno ritenuto di condividere questa sfida quindi quelli che abbiamo selezionato per entrare nell'edicola e per gestire l'edicola saranno formati su questi temi racconteranno questi temi ai visitatori cercheranno anche con lo stile della gratuità del dono e della condivisione far capire il titolo dell'edicola che è dividere per moltiplicare cioè solo attraverso la condivisione ma non solo del cibo anche del sapere delle tecnologie delle samenti delle terre dell'acqua si può sconfiggere questa situazione e naturalmente bisogna farlo passare attraverso una attività di sensibilizzazione culturale e quindi questi questi volontari si sono resi disponibili a condividere un percorso che è iniziato da lontano che ovviamente non ci voleva Expo per fare quello che stiamo facendo e probabilmente dopo Expo continueremo a farlo però Expo è sicuramente questa straordinaria occasione dove tutti i paesi del mondo tanti 140 tante imprese che hanno grandi responsabilità rispetto a questa situazione la stessa società civile può prendersi le proprie responsabilità naturalmente i cittadini volontari con il loro stile di vita e gratuità di condivisione possono contribuire molto perché molto passa anche attraverso gli stili di vita le scelte personali delle scelte di dieta che facciamo di come consumiamo di come votiamo col portafoglio di come votiamo poi anche i nostri governanti perché poi vadano in Europa piuttosto che in Parlamento e deliberino ad esempio per la cooperazione internazionale che senza la quale molti dei discorsi che stiamo facendo molti paesi non possono avere le tecnologie le infrastrutture le strade eccetera eccetera quindi questa attività provocherà nei volontari una presa di coscienza delle proprie responsabilità che speriamo venga trasmesso agli altri cittadini e alle altre comunità perché solo facendo così Expo può essere un'occasione non persa grazie grazie Luciano credo che Luciano ci abbia offerto un altro paragrafo di questo racconto devo dire Luciano anche proprio una piattaforma politica che ha preso nota diritto al cibo contrasto alla povertà lotta contro lo spreco il ruolo delle donne soprattutto nel sud del mondo la cooperazione internazionale quindi anche credo ci hai ricordato anche che siamo qui alla Camera nella sala stampa della Camera che coloro che frequentano questa Camera sono stati eletti per svolgere questo prezioso compito che è quello appunto di costruire il più bene comune ecco che l'Expo è anche una proposta politica una piattaforma sulla quale evidentemente i parlamentari i colleghi parlamentari compresi il sottoscritto sono impegnati nei prossimi mesi grazie grazie a Luciano Dimitri giusto? giusto ci ho preso con la scaletta molto bene vi ringrazio per l'invito vi porto i ringraziamenti e i saluti dei presidenti di Agesci e di CNJ due note sul progetto che la Federazione Italiana dello Scautismo porta ad Expo il progetto si chiama Educare Energia per la Vita vi do i riferimenti così capite capiamo insieme qual è la presenza dei volontari vi ho detto un progetto federale della Federazione Italiana dello Scautismo che è costituita da Gesci e da CNJ siamo ad Expo perché per noi è un'occasione sia la preparazione sia vivere l'evento ma soprattutto il dopo l'eredità è un'opportunità per potenziare la visibilità dello scautismo nei territori ma soprattutto per offrire possibilità ad esterni di fare esperienza lo abbiamo pensato come un progetto aperto siamo partiti dal tema nutrire il pianeta energia per la vita lo abbiamo sviluppato su tre direttrici Educare come educazione come relazione col mondo e come cultura i frutti che sono su questo albero sono e saranno i contributi che arrivano da tutti i livelli dai livelli locali dai gruppi fino alla dimensione internazionale alla base sulle radici le tre azioni principali l'accoglienza la presenza nello stand e l'expo diffuso i frutti mangiando questi frutti dentro si assaporeranno alcuni diciamo i contenuti di questo progetto ve ne cito solo alcuni l'educazione ai cibo per la mente educare a temi legati al cibo essere in salute per se stessi e per essere in servizio per gli altri piuttosto che vivere il cibo come veicolo di relazione offrire esperienze di scoutismo e ultimo ma non meno importante essere vicini in partner della campagna cibo per tutti di cui poco fa parlava Luciano nella pratica cosa faremo l'accoglienza stiamo strutturando una rete di accoglienza in famiglia nelle basi scout e attraverso gemellaggi tra gruppi scout l'expo diffuso l'expo diffuso saranno iniziative fuori dal sito espositivo in particolare che cosa ci sarà in expo diffuso tra il 3 e l'11 di ottobre ci sarà la settimana dello scoutismo incontro al mondo sostanzialmente si darà la possibilità a chi non è scout di vivere esperienze anche piccole esperienze offerte dai gruppi ci saranno tra queste esperienze laboratori di tecniche gare di cucina alla trapper speriamo di fare una come dire una gara con chef stellati che cucinerà la trapper con loro esperienze di pionieristica veglierover insomma quello che è l'esperienza dello scoutismo organizzeremo dibattiti e incontri sui temi dell'educazione e di una corretta nutrizione vogliamo rilanciare un dialogo interno alle associazioni sui temi dell'adozione di stili di vita sostenibili perché la sindrome metabolica colpisce anche gli scout ci saranno percorsi guidati sui luoghi storici dello scoutismo uno su tutti scoutismo e resistenza aquile randage a Milano vogliamo rilanciare le strutture scout riportando all'interno di queste il tema dell'educazione e dialogare insieme anche altre realtà di questo tema lo stand saremo in Cascina Triulza tre settimane due a giugno e un a ottobre proprio in corrispondenza della settimana dello scoutismo incontro al mondo cosa facciamo nello stand ci raccontiamo ci raccontiamo raccontando le esperienze che arrivano da tutti i livelli e offrendo piccole opportunità di provare uno scoutismo veloce diciamo del tempo di un nodo per fare per costruire tutta questa esperienza abbiamo lanciato diverse call diverse chiamate interne alle due associazioni Agessi e CNJ la realizzazione di un logo la costruzione di iniziative di Expo Diffuso la realizzazione di contributi video per lo stand la presenza di volontari nello stand ecco per darvi due numeri Agessi tra Agessi e CNJ siamo attorno ai 190.000 associati con più di 2000 gruppi sul territorio nazionale solo nella fase preparatoria ho fatto un conteggio che è già sbagliato perché è già modificato di circa 300 volontari tra il gruppo di lavoro e le pattuglie operative sono chiaramente numeri in crescita perché ci saranno associati nello stand avremo video che arriveranno le famiglie accoglieranno non sappiamo ancora bene quante saranno le iniziative per Expo Diffuso in particolare Expo Diffuso queste iniziative che saranno nel territorio vogliono essere un'occasione di servizio al territorio in primis e un'occasione di sviluppo per avvicinarsi a nuovi associati ma non solo giovani ma anche diciamo meno giovani magari perché no anche ex soci che hanno già esperienze di scautismo per fare questo ci appoggeremo a una piattaforma uidu.org che appunto ci aiuterà in questa prospettiva dicevo non sappiamo ora il numero delle persone che presteranno servizio sappiamo che racconteremo moltissime storie e altrettante ne ascolteremo sappiamo che spesso nelle mani del volontario la realtà supera l'immaginazione e ve lo racconto così abbiamo chiesto a Cinzia però questo non si vede abbiamo chiesto a Cinzia di aiutarci a fare un di fare un tutorial per un video mi spiace che non si veda per la realizzazione dei video dicevo per la realizzazione dei video per la eh non lo vediamo mi spiace lasciamo perdere per la realizzazione dei video per la cascina abbiamo immaginato un tutorial e volevamo farlo in forma scritta Cinzia che ci ha dato una mano ha pensato di farlo invece realizzando un video ecco non possiamo vederlo oggi ma vi invito a vederlo sul canale Youtube della Federazione Italiana dello Scautismo perché è proprio quello che vi che vi raccontavo nelle mani del volontario la realtà supera veramente l'immaginazione noi volevamo una cosa scritta e alla fine ci siamo trovati un prodotto che era molto ma molto più come dire avanzato nel pensiero e chiuderei così dicendo che è importante pensare che l'educazione è l'azione del presente che garantisce un solido futuro grazie Dimitri anche questo un altro un altro paragrafo un altro capitolo di questo racconto di questo bel libro degli expo diffuso le famiglie coinvolte tutte le sedi scout impegnate nell'accoglienza credo che siete io poi sono sempre curioso di quel giorno che farete la sfida della cucina trapper mi candido a cucinare a cucinare perché me la cavo quindi voglio vedere questi magnifici chef cosa sapranno fare quindi accetto la sfida del ricoppo appunto io sono meno pericoloso sulla cucina però me la cavo ecco la va bene scusate la battuta Tommaso prego buongiorno a tutti grazie agli intervenuti e grazie dell'invito insomma per questa conferenza stampa un tema che probabilmente ancora questa mattina non è stato toccato diciamo in tutte le discussioni relative ad Expo è l'importanza turistica che questo evento comporta evidentemente e Touring Club Italiano come principale associazione di promozione sociale in Italia che ha come mission quella di promuovere un turismo qualitativo responsabile di promuovere i beni culturali e ambientali in Italia si è impegnata affinché come dire l'esperienza di Expo non si vivesse soltanto all'interno della FIER con comunque dei contenuti culturali editoriali che sono da sempre patrimonio storico della nostra associazione ma soprattutto grazie a una rete di volontari che ero mai consolidata da anni e con questo vi racconto un po' la nostra esperienza di volontariato culturale che si chiama Aperti per voi Aperti per voi è di fatto questa iniziativa che è nata nel 2005 proprio a Milano con l'impegno di favorire l'apertura di luoghi d'arte e di cultura che altrimenti sarebbero chiusi o Aperti con forti limitazioni d'orario dati da evidentemente delle carenze di risorse di differenti tipologie così i nostri volontari appunto dal 2005 ed in dieci anni di esperienza si sono impegnati con dei compiti specifici di accogliere i visitatori italiani e stranieri che appunto entravano in questi luoghi orientandoli dando loro informazioni storico-culturali sul contesto e poi evidentemente presidiando il sito con dei compiti anche di sorveglianza e di supporto appunto al presidio dei siti stessi cito qualche numero perché è rappresentativo per noi di questa esperienza di volontariato dal 2005 appunto ad oggi sono ormai 60 i luoghi d'arti di cultura che vengono aperti continuativamente in maniera sistematica quotidiana dei nostri volontari in 23 città i volontari da un piccolo gruppetto di 25 pionieri che si sono avventurati in questa esperienza a Milano sono oggi più di 2.000 in tutta Italia che hanno ed hanno consentito ad oltre o scusatemi a quasi a breve festeggeremo questo ulteriore traguardo 5 milioni di visitatori di entrare in siti d'arte e di cultura che altrimenti sarebbero stati non fruibili un dato che poi mi piace sempre sottolineare perché è una testimonianza dell'impegno continuativo dei nostri volontari sono le ore di volontariato donate abbiamo stimato e calcolato che nel solo anno 2014 sono state quasi 130.000 ore quelle che appunto i nostri volontari hanno prestato per questa attività di accoglienza di visitatori nei luoghi d'arte e di cultura partendo da questa appunto esperienza che ormai è una realtà strutturata abbiamo deciso in occasione di Expo di dare avvio ad un nuovo progetto intitolato Aperti al mondo sviluppato in collaborazione con il Comune di Milano che vede appunto sostanzialmente i nostri volontari per il patrimonio culturali impegnati nell'apertura anche serale e continuativa con degli orari straordinari di presenza di 16 luoghi d'arte di cultura milanese non sto a raccontarvi appunto quelli che sono l'elenco completo dei nostri luoghi ma sono parte di quel circuito turistico della città di Milano che magari non è tra le tappe principali di una visita diciamo non presidiamo il Duomo di Milano piuttosto che la Pinacoteca di Brera ma sono quegli elementi valoriali che costituiscono effettivamente come direi testimonianze poi culturali della nostra società faccio soltanto qualche esempio perché insomma credo che voi tutti poi in occasione di Expo avrete la possibilità di venire a Milano e di trascorrere qualche giorno la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore che è uno dei gioielli dell'architettura e della pittura rinascimentale lombarda piuttosto che la Basilica di San Satiro dove c'è una incredibile prospettiva del Bramanti in questa arterea commerciale milanese che via Torino a due passi dal Duomo o la Casa Museo Boschi di Stefano che è appunto un piccolo gioiello di questi due collezionisti del Novecento che racchiude oltre duemila opere di arte contemporanea evidentemente l'impegno dei nostri volontari non si ferma soltanto nell'apertura non si esprime soltanto nell'apertura appunto di questi luoghi d'arte e di cultura ma considera anche una serie di iniziative culturali musicali ed artistiche che sono state programmate e che costituiscono il nostro palinsesto di eventi culturali sono infatti oltre 100 gli eventi che si realizzeranno all'interno dei luoghi interessati del progetto Aperti al Mondo nel semestre di Expo con duemila ore di apertura straordinarie e a Milano mille volontari che sono stati reclutati formati e saranno appunto a disposizione dei turisti italiani e stranieri con un'accoglienza curata appunto anche in lingua inglese ci tengo a chiudere ricordando quelli che sono un po' le due caratteristiche che hanno accompagnato il nostro percorso due parole chiave probabilmente entusiasmo e consapevolezza entusiasmo perché evidentemente è la componente principale di tutti coloro che vivono la propria vita o come dire una parte di essa tendenzialmente del tempo libero dedicandola al volontariato e l'altra consapevolezza perché i nostri volontari sono consapevoli che i cittadini sono i primi come dire le prime persone che possono esprimere sostanzialmente ed essere davvero i rappresentanti della propria comunità e di in quanto comunità essere possessori dei beni culturali che di fatto contraddistinguono la nostra storia e con questo possono accompagnare i visitatori i turisti che appunto si susseguiranno nel semestre di Expo alla scoperta della nostra città ed in generale dell'intero paese grazie grazie di cuore io chiamerei Ivan qui al tavolo per le conclusioni nel frattempo se i colleghi se i colleghi giornalisti vogliono fare hanno delle domande sono ovviamente gli amici sono qui a disposizione ovviamente questo penso Ivan lo dirà meglio di me è un piccolo racconto di questo libro che potremmo immaginare via via fatto di tantissimi capitoli le esperienze che qui avete ascoltato sono un piccolissimo racconto piccoli capitoli di un libro molto 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 più spesso più alto di tante altre realtà che oggi non potevano essere qui perché l'incontro sempre stato lunghissimo ma che stanno facendo altrettanto bene con la stessa entusiasmo come ci ricordava Tommaso e voglia di partecipare Ivan per le conclusioni Sì solo due cose appunto una cosa è questa che cedo a noi piaceva appunto raccontare questo visione e questo aspetto di Expo per dire appunto come dicevamo all'inizio il volontariato dentro Expo sarà un volontariato significativo in termini di presenza per quanto riguarda la rete dei centri servizi le esperienze di Expo appunto diciamo anche prima è una sfida che vorremmo continuare a raccogliere soprattutto sul dopo e soprattutto abbiamo organizzato un appuntamento nell'arco dei sei mesi che sarà il 20 ottobre dove appunto presenteremo le ricerche sul volontariato in Expo nel senso che in questo percorso abbiamo trovato dei compagni di strada che sono diverse università dall'Università di Verona all'Università di Pisa e l'Università Milanesi proprio per analizzare insieme a loro e fare ricerche su questo modo e questo nuovo volontariato quindi il 20 ottobre sarà l'occasione dove presenteremo appunto all'interno di Cascina Triulza quindi all'interno appunto del sito espositivo presenteremo appunto le ricerche su questo volontariato perché da lì vorremmo poi rilanciare quella sfida che dicevamo all'inizio appunto al mondo del volontariato per dire e adesso cosa facciamo Expo non finisce il 31 ottobre ma appunto da lì riparte e crediamo che il volontariato a partire anche delle esperienze di Expo possa trovare altre nuove occasioni e modalità e penso la prima prossima che ci sarà penso il giubileo come evento come appunto anche questa esperienza possa diventare patrimonio anche in altre occasioni in altri eventi e quindi dentro qui la possibilità anche della rete dei centri di servizi di essere di mettere a patrimonio offrire anche questa esperienza come occasione appunto di contributo dentro il percorso nazionale volevamo concludere facendo vedere un piccolo video proprio delle storie dei volti concreti dei sorrisi dicevamo all'inizio dei volontari perché ci sembra che poi questa è la testimonianza più bella di appunto di questi giovani prima si diceva un altro dato che Roberto prima diceva che magari è passato ci sono anche il 9% di giovani stranieri la comunità più grossa è quella cinese ad esempio questo per dire che anche l'esperienza di volontariato diventa forma anche di integrazione appunto le secondi generazioni su questo è stata una delle riflessioni che con Expo abbiamo voluto sottolineare maggiormente la possibilità anche ai nuovi italiani appunto di offrire la possibilità di sperimentarsi e di mettersi a servizio dentro questo evento credo che questo sia ancora una volta un'occasione dove il mondo del volontariato diventa forma di integrazione allora i nuovi italiani che appunto accolgono gli stranieri che verranno a partire dentro il sito espositivo ma diventa poi anche qui occasione per il futuro grazie mille grazie ma dobbiamo fatela partire ma dobbiamo chiudere perché c'è la prossima conferenza mi chiamo Poliana Pimentel ho 27 anni e studio ingegneria per l'ambiente e il territorio al Politecnico di Milano per me partecipare di questo grande evento sarà un'esperienza sia professionale che personale mi chiamo Huzo Esi ho 24 anni studio all'Accademia Prera studio Fashion Design io ho partecipato all'Expo Milano 2015 perché 5 anni fa sono andata a Shanghai Expo mi piace molto io sono Befan Ghiedmond e studio all'Università di Milano nella Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari ho scelto di partecipare all'Expo Milano perché essendo nel settore alimentare potrò vedere in modo reale la sostenibilità mi chiamo Alessandro Cordova ho 24 anni sono italiano e sono al mio secondo anno di PhD in Business Administration ho deciso di partecipare all'Expo per tre motivi principali il primo per vedere come le diverse culture interagiscono tra di loro la seconda perché sono molto interessato al tema dell'alimentazione e in particolare al tema della sostenibilità terzo per vedere come Milano si comporterà in questa sfida ciao mi chiamo Zhang Zixuan il mio nome italiano è viola studio canto lirico voglio diventare volontaria perché ho tanta voglia di aiutare i miei convenzionali che vengono dalla Cina sarà un'esperienza bellissima per me sono volontaria dell'Expo Milano 2015 partecipare questa è l'Italia che ci aspetta non quella che ci racconta non quella che ci racconta